Lazio Juventus 3 a 1 Le pagelle Chesni voto 7 Quadrato 4 e mezzo Bonucci 5 Delight 5 Alexandro 5 e mezzo Bentancur 6 e mezzo Emre Can 5 e mezzo Pjanic 5 e mezzo Matuidi 5 e mezzo Bernadeschi 6 Danilo 6 Dybala 6 Cristiano Ronaldo 6 e mezzo Sarri 6